E' stato accoltellato al culmine di una lite e subito dopo arrestato perché è risultato essere ricercato da un anno e mezzo per un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento perché accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in quanto ritenuto uno scafista. E' quanto accaduto a Reggio Calabria. La polizia locale è intervenuto con più pattuglie per una lite tra due persone che si stava consumando in piazza Sant'Agostino e nel corso della quale entrambi, poco più che ventenni, sono rimasti feriti. Uno dei due, un cittadino marocchino, è stato raggiunto da un colpo di forbici. Nel corso degli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, la polizia locale ha accertato che il giovane non era regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato. I successivi approfondimenti svolti dalla Questura di Reggio Calabria hanno accertato che il ventenne era anche ricercato. A questo punto è stato arrestato dalla polizia locale e dalla polizia di Stato e portato nella casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria, oltre ad essere denunciato per permanenza illegale, sul territorio dello Stato e lesioni. Per quest'ultimo reato è stato denunciato anche l'altro protagonista della lite.